Sale anche in Irpini alla febbre per il jackpot da record. Il più alto del mondo, visto che dopo nulla di fatto di ieri, il concorso ha raggiunto la vetta di 195 milioni di euro. Anche questa mattina le ricevitorie della città erano affollate, entranti a caccia della sestina fortunata. Molti desideri espressi in caso di vincita. C'è chi sogna di rilevare l'avellino calcio, la scandone, che ha promesso in caso di esploiare il suo impegno per mettere in moto gli impianti dell'aceno, che rimetterebbe in sesso l'antico castello e ovviamente non manca chi darebbe una mano agli indigenti. Chissà che ne pensa chi ieri ha sfiorato ad Avellino il colpo grosso andando vicino alla sestina con un sistema giocato alla ricevitoria di Corso Umberto, di Roberto Crescito. Sono mancati due numeri, uno di questi, il 19, è giocato da questa quota che comunque è stata presa dalla bacheca dei sistemi della Superanotte. Lui aveva il 19 e è uscito il 18 nella colonna vincente, ma comunque ha realizzato lo star, ha preso 4 con lo star, prendendo 4 con lo star su 8 numeri scattano 6-4 di 46 mila euro ognuno. Insomma, mettendo insieme i 4 e i 3 con lo star, alla quota ha pagato 302 mila euro. Diviso 90, perché sono 90 le persone che hanno partecipato, ognuno di loro si è portato a casa 3.359 euro a testa. Ci può dare la combinazione vincente invece ai numeri giocati che sono andati vicino all'esploiato? Allora, i numeri giocati dai giocatori sono 19 e invece è uscito 18, il 32 l'ha preso, il 34 l'ha preso, il 74 e il 79 l'ha preso, più lo star 36. Quindi due numeri sono mancati all'appello per poterci comprare l'avellino calcio. Intanto domani 195 milioni di euro. Domani sono 195 milioni di euro, noi ci ritendiamo e speriamo che stavolta la fortuna ci bacia definitivamente. E così togliamo di mezzo tutti questi problemi e chi se la prende, chi non sa, ce la prendiamo noi!